Pochi giorni fa il centro di accoglienza per disabili San Giovanni di Giove ha festeggiato 40 anni con una giornata dedicata a famiglie, agli ospiti e con molte attività. È stata una giornata importante quella di domenica 16 dove il centro ha organizzato questa festa per tutti i volontari, gli amici, le persone disabili che da 40 anni frequentano il centro, che ha visto la partecipazione di più di 200 persone, iniziato con una celebrazione eucaristica per ricordare prima di tutto Don Giuseppe che è il fondatore dell'associazione e tantissime persone che hanno dato il proprio contributo e che hanno partecipato poi con noi fino alla cena finale. Quante persone accogliete e quali sono le principali attività giornaliere? Le persone accolte nel centro sono circa 12-13 persone con disabilità varie, chiaramente poi ci sono tanti volontari e persone che saltuariamente vengono a trovarci e a passare del tempo con i ragazzi, con attività varie, dalle attività ludiche alle passeggiate e soprattutto con la lavorazione della ceramica che è un po' il marchio di fabbrica del centro ormai da tantissimi anni e attraverso proprio la ceramica che il centro si fa conoscere anche all'esterno.